Bene Ok, siamo sempre nella saga di Cell, nel Cell Game In cui Gohan si è infuriato dopo aver visto la morte di C16 No, di C... Sì, di C16 E adesso è trasformato in spesa di secondo livello Bello Questo lo credi tu Ha! Fatti sotto piccoletto Gohan diventato potentissimo Mi ha tolto un casino di energia C'è, si vede che Gohan è potentissimo E... avanti con il prossimo Ha! Mi ha fatto un cavolo Ho! Superonda Energetica Ha! Con due colpi l'ho steso questo Questo Ha schivato Prendi questo E prendi questo Imperdonabile No, fuggato L'ho fuggato L'ho fuggato L'ho fuggato L'ho fuggato Dove scappi Sarete e tanto inutile scappare Ha! Mi è colpito quel tuo Cannone Della anni e muori ora tocca se certo che sono convinto di spalle no non sono convinto di sconfiggerti sono convinto di ambientarti diverso se e adesso se se sta per fare una delle sue figuracce ok ok io assistete alla foto più alla sua super figura ciao ah ha colpito incredibile non è possibile un po' più rotto le scatole set ah fregato ma buffo ha detto ah troppo lento ceste notare le figuracce di se ti sto massacrando in una maniera ma che cosa ora assista all'onda energetica padre figlio giusto go on ti ho colpito lei capita se al concetto a uno straccio io sono sicuro che è finita ok ok ora se è incavola tutto nero tanto la sua tanto è troppo becchio nella sua pallina finta onda energetica ora guarda ora guarda la mia si sta cagando sotto sel ok quindi è finito questo episodio del sel gay